Si intitola Tutti al mare ed è il comunicato fortemente ironico proposto dalla minoranza di Piedra Direzione in merito ai lavori alle piscine comunali annunciate dall'amministrazione Priori. Noi insieme a molti concittadini ci chiediamo se l'impianto, scrivono dalla minoranza, sarà di nuovo fermo per la seconda stagione estiva consecutiva dopo il buco nell'acqua dato dalla sapiente gestione della stagione scorsa da parte dell'amministrazione. L'estate scorsa infatti l'amministrazione guidata dal sindaco Matteo Guido Priori diede la colpa all'assenza di bagnini, poi diede la colpa ai gestori uscenti, precisa la minoranza, che avevano tirato troppo per le lunghe. Ora la colpa chi se la prenderà? Molti dei problemi che oggi colpiscono l'impianto delle piscine derivano dalla mancata apertura dell'anno scorso che inevitabilmente ha portato all'abbandono la struttura e dunque al suo inutilizzo con conseguente assenza di manutenzione. Dunque il peccato originale, spiegano sempre dalla minoranza, sta nell'assenza di capacità che questa amministrazione ha dimostrato nell'affrontare nella stagione scorsa l'assegnazione della gestione delle piscine comunali. Il madestro tentativo di affibbiare la colpa, l'ennesimo qualcun altro, dopo quattro anni di mandato, non funziona più. Servirebbe invece iniziare, seppur tardivamente, a amministrare questo comune prendendosi le proprie responsabilità. Però in consiglio comunale, precisano dalla minoranza, il consigliere Pagliari l'aveva detto, un comune come Piazza della Direzione non può permettersi tutti questi servizi. Dunque biblioteche, impianti sportivi, piscine, museo sono un vero peso per il comune, perciò non possiamo averli tutti, commentano ironicamente dalla minoranza. Chiudiamo dunque con un consiglio, se la decisione dell'amministrazione sarà anche per quest'estate di non garantire il servizio delle piscine comunali, che almeno lo faccia sapere in tempo, cosicché ci si possa organizzare per andare tutti al mare.